Bentornati ragazzi a un nuovissimo video su... Il DLC di Shadow of Murder No, me ne vado Dunque Esercito Tu sarai il prossimo Di cui, 1 e 1 Cominciamo, come sempre, a scoprire i punti deboli Oh, ciao, amico mio Lui Ti sono debitore Vieni qua E lui Il lagnoso Vediamo Colpi di grazia in combattimento Contra l'altro Sempre lo stesso, ok Sack Cominciamo a decimare Un paio Diogu Diogu C'è Un paio Diogu 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 Ehi la Tu devi muodere Ok Oh bene Maledetto Se non ci fossi tu Questo sarebbe un bel posto tranquillo Non credo proprio Raminco Pensi che non abbia paura Di affrontarlo Conviene stare zitto Non oggi Beh E uno è andato Potere aumentato e poi è morto Pof Lui Legame inscindibile Va Legame inscindibile Va male Questa cale Non abbiamo rune Dove sarà mai Il nostro amichazzo Dunque Lì ci sono informazioni Che mi servono Oh ya Vieni qua Voglio sapere di più Insega Questo ne ho quattro Sul Lui Eccolo qua Quelli Inseguite lo schiavo Si Con tutta la camera Chi è che mi guarda C'è lo schiavo Dio quanti siete Circondiamo Piccoletto Strajati e muori Facciamo prima Vorresti Chiamogli un'elezione Stupido Idiota Aia Togli Colpi di grazia Altra non posso fare Ok Potere della terra Mi interessa Vieni fuori Bello No 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 Non c'è qualcuno che si aspetta. 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 Ma troppo debole. Per cercare di sconfiggere. non c'è qualcuno che si aspetta. 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 E un altro è andato In boscata Queste missioni sono ancora bloccate Va benissimo Easy Molto facile Ok ragazzi Anche adesso abbiamo Anche oggi abbiamo distrutto questo Capitano I prossimi sono Fammi vedere Uga Kuga Cavaliere del Grau Questo se riesco a nominarlo Shagflak Guardiano dei Ghoul Testa E Zugor Macellaio di Bestie Del fatto è questo Ha quattro tipi Minzica Questa ho zero Che ci aiuta molto Ah bene Faremo quindi Un altro capitano Nel prossimo episodio Un Karagor Tu morirai Forse non da me E mentre che mi faccio Questa piccola battaglia Io vi saluto ragazzi Ciao testa E vi do appuntamento Al prossimo video Su Il DLC Attenzione Sul DLC Di Shadow of Mordor Ciao a tutti 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 Ciao a tutti